SHOPPING CHALLENGE Per farlo più complicato lo shopping lo farete solamente con le iniziali del vostro nome Ma avrete solamente 30 minuti Stefano noi andiamo a pagare eh In totale di 190 190 euro? Cosa? Cash o carta Cash o carta? Papà papà oh Papà Ciao a tutti funghetti e funghettine Benvenuti in tutto il nuovissimo video Però prima devo dire una cosa a Nicole Cosa? Ho una sorpresa per te guarda la Ah Aia Hillary Ragazzi dovete venire con noi perché Oggi abbiamo intenzione Di fare Di andare a fare shopping Di spendere un milione di euro Milioni E non crescono mai Si Ora c'è un problema Cioè? Non abbiamo soldi Ah Non avevo calcolato questo problema Serve un'idea Serve un'idea Serve un'idea Ce l'ho Si 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 Allora ragazzi il piano è questo Sta avvenendo Stefano Noi gli diremo che vogliamo giocare obbligo e verità Quando arriverà il suo turno Noi lo obblicheremo a comprarci tutto quello che ci pare Ilari eccolo sta arrivando Vieni qua Ilari Ah ma state registrando un video? Si ma ci stiamo un po' annoiando Vuoi fare un gioco con noi? E che gioco volete fare? Obbligo e verità Va bene ci sto giochiamo ad obbligo e verità Obbligo e verità Vada per l'obbligo che sia una cosa semplice Piano riuscito L'obbligo sarà Shopping challenge Eh scusate che vuol dire shopping challenge? Che andiamo a comprare tutto quello che vogliamo Io lo sapevo che c'era una fregatura sotto questo gioco Va bene l'obbligo lo faccio ma ha solo un patto Per farlo più complicato lo shopping lo farete solamente con le iniziali del vostro nome O così o niente Va bene Pronta per la shopping challenge Sono pronta anche io a questo shopping challenge Ok ragazzi siamo pronti per iniziare questa sfida tra Ilari e Zia Nicole Per questa shopping challenge ma avrete solamente 30 minuti Solo 30 minuti? È al massimo 40 Ilari dove dove? Vieni qua Vieni qua Questa Da questo momento avete 30 minuti per fare lo shopping con le iniziali del vostro nome Nicola La N non c'è Allora state cercando Ilari? Guarda quanto è bello questo colore Beh veramente sì effettivamente è molto bello Fa vedere? No Cosa no? Ho iniziato la N Fa vera Quindi non te lo vuoi Non me lo posso prendere Io ho trovato ho trovato Dai Ilari non ci credo che cosa hai trovato? Questo è troppo bello Guarda Ma ti sta? Ehm Papà l'ho trovato Lo prendi? Veramente l'hai trovato? Scusami Ilari questi si chiamano pantaloni E poi sono anche rosa No aspetta Non c'è niente di Aspetta I pantaloni No no È vero Sei fregato I pantaloni Quindi voglio scegliere i pantaloni È vero effettivamente è vero Io adesso devo comprare i pantaloni Perché i pantaloni iniziali con la I Ehi Come i pantaloni iniziali con la I? Pantaloni iniziali con la P Scusami eh Quindi no non ti compro nulla No no non mi ascolto bene Ascolta ora I pantaloni No pantaloni I pantaloni Ma effettivamente è vero ragione Ok Ilari puoi comprare un paio di pantaloni Ok Quanto è stupido Stefano Ilari l'ha fregato facilmente Lui manco se n'ha accorto Adesso ragazzi guardate come frego Stefano Stefano vieni qua l'ho trovata Che cosa hai trovato con le N? Si un completino Fammi vedere Corpetta Beh è molto carino questo ma non vedo le N Non c'è nemmeno la marca che inizia con le N Questo si chiama corpetto tipo va bene E questa è una gonna Quindi mi dispiace Nicole No inizia con la N No questa è una gonna inizia con la G Vuoi sapere come inizia? Eh stiamo sentire Na gonna Na gonna? Na gonna Un top E cosa c'entra? Allora puoi prendere solo questa e questa Come scusa ma gonna inizia con la G Na gonna Un top No Nicole posa perchè non hai vinto proprio nulla Perchè gonna inizia con la G e non con la N Ah invece i pantaloni iniziano con la I vero? I pantaloni Stefano Vediamo Oh Direi che ho trovato i miei pantaloni Ragazzi vado a provarmi i pantaloni Già sono passati 5 minuti e non ho trovato niente Hilary invece già si sta cambiando Ehi Questo è bellissimo Però ho giacchietto inizia con la G Però aspetta C'è una N Stefano vieni qua Che c'è Nicole? Tanto non c'è nulla con la N Mi dispiace per te Niente shopping Ah si? Guarda un po' qui È un giacchetto E questa che cos'è? Una N Una N E io come mi chiamo? Ti chiami Roberta No Stefano come mi chiamo? Dillo bene? Michela No Nicole Ehi qua c'è una N E inizia con la N il mio nome Ma che fortuna che hai Speriamo che non costa tanto Perchè veramente Guarda eh Hilary io ho trovato Ecco i miei pantaloni Stefano noi andiamo a pagare eh Ok ok Ma io non ho visto nemmeno il prezzo di queste cose Tranquillo Ci puoi vedere quanto costa? Ok allora Mi puoi fare il conto? Sì Vabbè tanto sarà poco dai Quanto è un pantalone Settanta Settanta cosa scusa? E un pantalone Settanta? Euro Settanta euro Un pantalone da settanta euro Beh 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 E questo qui viene 120 Un totale di 190 190 euro Cosa? Cash o carta Cash o carta? Ma non pago nessuno di due 190 euro Papà papà oh Ehi ragazzi fermi che state facendo? Fermi 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 Ehi che cosa stai facendo? Ah è una stessa cosa Non sono dimenticata Perché non lo fanno? Spera che Non lo fanno Scusa facciamo una pizza con la I Ho una pizza che inizia con la N Ma Eh Aia aia 190 euro Ma quanto manca alla fine di questa challenge? Allora 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 Quindi spieghiamoci Va bene? Sì Che figlio Wow No che bello questo qua Il libro Eh no Ilani mi ha fregato una volta Adesso basta Come si chiama questa cosa con la I Ora è carino Eh molto carino Il peluche Eh sarebbe molto carino Hilary Peccato che non inizia con la I Nicola ho trovato una cosa per te Che cosa? Si è carino però peccato che non inizia con la N Inizia con la N Si va bene Eh Nicola scusami Questo non inizia con la N Qua c'è scritto con la N Non ci credo Inizia con la N Che fortuna Papà io ho trovato questa Eh che cos'è scusa? Matita Eh tu come ti chiami? Hilary Però questa è per scuola Che c'è tra che è per scuola Hilary? Comunque non inizia con la I Il gomma No 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 posa questa posa Guarda che carino Che cos'è Hilary? Il semaforo Eh no No che carino un mini semaforo Sarebbe proprio carino questo da prendere vero? Io voglio Eh no questo si chiama semaforo E tu inizi con la I di Hilary Quindi questo non va bene Peccato perché era molto carino Giraffa inizia con la G Leopardo inizia con la L Scimmia Panda Mi dispiace Hilary Per te oggi In questo negozio non c'è quasi nulla Eh ragazzi ferma Che stai facendo? Fermo ferma ferma Fermo Wow Che carine Che fanno queste mano? Guarda Questa mano Hilary Che cosa stai facendo? Ah è una altra cosa Mi sono dimenticata Perché non ho fatto? Spera che Non l'ho Non ti azzardare Comunque Mano inizia con la M Quindi E la vincitrice dell'Oscar È Oh Hilary Ho vinto l'Oscar Guarda Inizia con la I Come inizia con la I? Fa vedere Inner Non ci credo Va bene Puoi prenderla Ragazzi Ragazzi In verità non inizia con la I Guardate Poi mi potrei chiamare in un altro modo Con la I non c'è così nulla È per fortuna Hilary che non c'è quasi nulla con la I Se no mi facevi spendere un milione Stefano guarda quanto è bello Perfetto per scuola Anche se sono un po' grande Che bello questo No vabbè Inizia con la N vero? No No Allora lo devi posare Mi dispiace Da dove l'hai preso? Questo qua? Da lì Ecco qua Vediamo Che carini questi carrelli Peccato No no il carrello inizia con la C Guarda papà Qua che c'è scritto Dove? Ing Non ci credo Mio è il mio È il mio È il mio Nicola mi dispiace Mi batte il cuore Mi batte il cuore Ma cos'è? È un cuore No ragazzi non ci credo Guardate Ma questo è un cuore vero? Sì Vabbè ragazzi Un po' di cose Guarda io l'ho trovata Eh sei stata un po' più fortunata tu di Nicola Perché Nicola non ha trovato veramente nulla Uff Non trovo nulla Nicola ho trovato una cosa per te Stefano va bene? Che cos'è? Nicola Ilari Non ci credo Che fortunate Che siete Queste sono tutte le lettere Non vale Non vale Sì che vale Adesso andiamo a pagare e vediamo che è preso Più cose tra me e Nicola Quanto tempo ci rimani? Vi rimangono solo 5 minuti E cosa hai comprato tu Nicola qui? Niente Non hai trovato nulla E tu Ilari invece? Tante cose Io non vedo altri negozi per spendere i soldi Pausa Pizza Cosa? Cosa? Due minuti per mangiare la pizza No ma non vale la pizzeria Sì 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 No Scusa c'è una pizza con la I? O una pizza che inizia con la N? Non esistono pizze che iniziano con la I o con la N C'è qualcosa che possiamo comprare con la I o con la N? No No Allora c'è la I calzone, il buster C'è l'insalata Non c'è? Insalata 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 Ma quelle sono zucchine quindi mi spiace non mangiate Ah ci sta scadendo anche il tempo Quindi Quindi Agnetta andiamo via Allora facciamo un stroppare Quello che ti dopo saprì con le patate e salsicciolo Bene? Sì E c'erano altre cose che potevano andare bene per me Ho preso una giacca E se ti chiami N con Nicole le avete voluto a voi questa challenge eh? Nicole sono stata molto più intelligente Va bene ragazzi Spero che anche oggi vi state divertiti che vi abbiamo strappato un sorriso Saluto dei funghetti A E I O U U Ehi calmatevi Ragazzi ci vediamo domani Ciao Ciao